Coach Dalmasson, per voi si dal campo di Libasco e della Lega 2. Coach, cosa non ha funzionato nell'ultimo quarto questa sera? Beh, non è l'ultimo quarto, un po' lo specchio di quello che siamo stati nel corso dell'intera gara. Non siamo mai riusciti, se non in qualche sprazzo, a giocare e soprattutto a difendere come dobbiamo e sappiamo e quindi abbiamo mai avuto in mano completamente la partita con la voglia di finirla.